Se io ti faccio questa domanda flash, mi sai rispondere? Che cosa vuoi essere nel 2024? Proprio così. Sapresti dirmelo? Ti dico la maggior parte delle persone. Statisticamente parlando, la maggior parte delle persone non saprebbero neanche lontanamente darti un'idea precisa di quello che vorrebbero fare di se stessi il prossimo anno. È scientificamente provato che coloro che pianificano i prossimi step della propria vita riescono a vincere. Un giocatore di scacchi principiante vede uno o due passi nel futuro. Un giocatore di alto livello vede da 5 a 10 step nel futuro. Più ti è chiaro quello che stai per fare e i prossimi step della tua vita, più è probabile che tu riesca veramente a raggiungere il tuo obiettivo. Sempre se ne hai uno. Ma non ti preoccupare, ti insegno anche quello oggi. In questo momento mancano solamente nove giorni fino al 2024. Senti l'ansia che sta arrivando? Senti la voglia di mettere i buoni propositi che poi tanto non raggiungi? Tantissimo. Sento che tutti quanti stanno già mettendo sui social che nel 2024 vogliono fare più successo. Ok, vediamo come si fa. Prendiamoci un accordo io e te in questo momento. Se vuoi veramente che il tuo prossimo anno vada così come tu vuoi, devi guardare questo video fino in fondo. Non aspettarti di fare successo se tu poi non guardi neanche le persone come me che vogliono aiutarti. Seconda cosa su cui dobbiamo essere d'accordo è devi veramente fare le cose che ti dico. Queste robe le ho applicate anche io quando ancora stavo a Pescia, stai in provincia di Pistoia. Abitavo ancora con mia madre, non sapevo che fare di me stesso. Mia madre faceva fatica a pagare le bollette. Anche in quel periodo della mia vita ho applicato i consigli. Cioè ho letteralmente fatto quello che sto per dirti di fare oggi ed è quello che mi ha permesso di mirarmi completamente fuori da quella situazione. Quindi devi applicare veramente queste cose se vuoi che le cose vadano come vuoi. Ora che io e te abbiamo questo accordo, andiamo avanti. Questo non è un video motivazionale. Infatti è la seconda edizione di questo video che faccio dall'anno scorso ogni fine anno. Ma questo non è un video che ha l'obiettivo di coinvolgerti emotivamente. Il mio obiettivo non è ferirti il cuoricino e far sì che poi tu pensi sì cazzo ce la faccio, sono il migliore. Non penso in quel modo. Io non agisco sulla base delle emozioni, io agisco sulla base di specifici piani e strategie. Le mie emozioni sono completamente irrelevanti. Agisco nello stesso modo, vinco nello stesso modo. Tu non devi essere una persona che si fa controllare dalle emozioni perché se sei in balla alle emozioni non sei prevedibile. E se non sei prevedibile non sei costante. E se non sei costante è impossibile che tu raggiunga i tuoi obiettivi perché per raggiungere i tuoi obiettivi devi lavorare con costanza. Bravo, visto che mi stai dietro, capito. Questo video si concentra su varie aree della tua vita, principalmente sulla questione denaro perché quando hai denaro la tua vita automaticamente migliora. E so già che ho i moralisti che mi stanno venendo contro. A volte quando parlo di soldi sui social c'è gente che commenta come ti permetti ma come puoi dire una cosa del genere? Non è vero, tu sei proprio un materialista che pensa sui soldi. Capisco perfettamente, questo è il mio modo di pensare. Se tu la pensi diversamente sei benvenuto a farlo. E' una... viviamo in un paese libero ed è bellissimo così. Ma secondo me i soldi sono tra le cose più importanti che uno possa avere dopo la salute e dopo le relazioni. Ti servono quelli per togliere 90% dei tuoi problemi. Voglio che tu pensi a qualsiasi tuo problema in questo momento che hai nella tua vita. Molto probabilmente questo problema si può togliere con il denaro. Quindi non diciamoci cavolà. Il denaro aiuta estremamente tanto e quindi mi concentrerò tanto su quella parte lì. Sulla parte carriera, business online che so che tanti di voi vogliono fare se non mi seguresti. Ora come funziona il successo in qualsiasi area della tua vita? Cioè come funziona? Cioè proprio com'è che salta fuori? Qual è l'ingranaggio che c'è dietro? Per spiegartelo voglio andare un attimo indietro nel tempo. E tranquillo ci vedo poco ma devo raccontartelo altrimenti non si capisce quello che voglio spiegarti. Quando ero all'inizio della mia carriera io faccio il copywriter, lo faccio ancora e ho sempre fatto quello da quando ho iniziato business online. Adesso mi va benissimo, chiudo clienti da 5.000 euro al mese, non ho problemi a fare qualche decina di migliaia di euro, sono finanziariamente libero, viaggio costantemente. Quindi ce l'ho fatta. Ma tempo fa non era per niente così, anzi era proprio il contrario di quello che è adesso. Tempo fa, circa 3-4 anni fa, stavo praticamente correndo a vuoto. Sembrava di correre su un tapis roulant che io facevo fatica, c'avevo il fetone. Oh mio Dio, sto facendo fatichissima, però non sto facendo nessun risultato. Quindi sì, stavo correndo e facendo fatica, ma non c'erano risultati, non c'era niente da mostrare per la mia fatica. Quindi mi sono chiesto che cazzo sto sbagliando, cioè cos'è che sto facendo di male, cos'è che non sta andando bene. E la cosa che non stava andando bene non era il mio impegno, perché io ci stavo mettendo impegno, ci stavo passando le ore ogni singolo giorno. Non era l'impegno, erano le informazioni su cui stavo agendo. Che o non c'erano, cioè proprio ero ignorante di alcune aree del successo che dovevo conoscere, oppure c'erano però erano applicate male. Tipo top 10 consigli presi da Instagram e cavolate del genere. Perché ti spiego questo? Perché tu puoi agire quanto vuoi, ma se non c'hai le informazioni corrette, non vinci mai. Allo stesso tempo, se tu hai le informazioni corrette, ma poi non agisci per davvero, non succede niente. Perché la formula per il successo, lo dico da sempre e sarà per sempre così. La formula per il successo è informazioni corrette più azione uguale successo. Le uniche due cose che devi sapere, che devi fare, sono queste. Le info corrette più l'azione. E sembra così semplice, no? C'è sempre un po' semplice, sembra che sia... Ah ma che cazzata? Servono due cose. Sì, è vero, servono due cose. La sfida più grande è ottenere queste due cose. Quindi le informazioni corrette, speriamo che queste siano informazioni corrette, quelle che ti sto dando adesso, non ti sto dicendo bagianate. E speriamo che tu, il prossimo anno, sei capace e sei responsabile, abbastanza, da agire veramente su quello che ti sto dicendo. Quindi, se tu vuoi fare un certo business, ad esempio copywriting, che io faccio copywriting, quindi parlo di quello. Se tu vuoi fare un business tipo il copywriting, devi sapere come fare, devi sapere come trovare clienti, devi sapere come funziona e come girano queste cose. Se tu vuoi fare un altro tipo di business, devi comprendere come si fa e devi raccogliere quelle informazioni e poi però devi applicarle veramente. E voglio spiegarti quali sono i tre macro step per fare successo. Il primissimo step per fare successo nel 2024, il primo step è raccogliere informazioni. È quello che stai facendo adesso, stai raccogliendo informazioni, stai segnando sicuramente, stai prendendo appunti, vero delle cose. Dopo questo c'è da pianificare e impostare obiettivi, ovvero proprio prendere la propria visione, dividerla in step e raggiungere poi la propria visione. Quindi il terzo step è l'azione. Informazioni, lo stai facendo ora. Pianificazione, ora ti spiego come si fa. Puoi applicare il tuo piano. Attenzione, al terzo step la maggior parte delle persone si sognano solo di arrivare, ma già tanto guarda, è già tanto se tu sei qua. Perché per la maggior parte delle persone te sei un coglione. Ma lo sai perché tantissimi, che magari ci sono persone così nella tua vita, forse, non lo so, ma io ce l'avevo nella mia vita quando ero all'inizio, era pieno di hater, oppure chiamali come vuoi. Comunque persone che mi prendevano per il culo, per quello che volevo fare. Ho imparato poi che non era colpa mia, non era una cosa che riguardava me, era una cosa che riguardava loro. Era una cosa che era collegata alle loro esperienze passate, alla loro mancanza di confidence, non collegato al mio successo e a quello che io veramente volevo fare. Perché non è quello. E le loro gelosie e insicurezze che le proiettavano su di me. E devi renderti conto che se sei qui non sei come la maggior parte delle persone, perché se lo fossi non saresti qua. Quindi primo step lo stai già facendo, congratulazioni, appena hai finito questo video hai finito il primo step. Il secondo step è pianificare. Ed è quello che ti lascio io a fare come compito per casa dopo questo video. Cosa devi pianificare? Allora la primissima cosa che ti serve, cioè consiglio proprio che ti do, è una cosa che ti dico che devi avere sempre, si chiama chiarezza. La chiarezza di che cosa? Avere chiaro che cosa vuoi fare e avere chiaro cosa vuoi tenere. Quindi io voglio ottenere questo tipo di vita, voglio vivere in questa casa, voglio vivere in questa città, voglio avere questa ragazza, voglio guidare questa macchina e voglio poter fare questo hobby. E con questo computer, cioè vedi che vai super nel dettaglio di quello che vuoi. E avere questo tipo di chiarezza è rarissimo. Non ci vuole tanto impegno a farlo, ma ci vuole tanto tempo, c'è un'oretta, due lì a scrivere su carta quello che tu vuoi a farti la visione e ti serve. Un consiglio che ti do è di crearti una vision board, tipo su Canva o su Photoshop o su Paint o quello che ti pare. Prendi delle immagini da internet, le metti insieme e ti fai una specie di compilation di immagini che rappresentano per te il successo. Se tu vuoi una tipa bionda, metti una tipa bionda sulla tua vision board. Quando sei materialista, stai zitto. Un obiettivo, l'obiettivo che le persone hanno, lo vuoi visualizzare, serve sulla vision board. La casa che vuoi avere, la città che vuoi avere con i monumenti principali della città, messi nella tua vision board. Quindi creati questa. Se per qualche motivo non riesci a crearti una visione abbastanza precisa, no problem, prendi una cosa un po' più vaga. Va bene comunque, basta che sia qualcosa, basta che non sia niente. Quindi la domanda che devi farti è, chi vuoi essere per il prossimo anno, quanti soldi vuoi fare, con che persone vuoi uscire, dove vuoi abitare, che tipo di ufficio vuoi avere, che strumenti per lavoro vuoi avere, che telefono vuoi avere, che computer vuoi avere, che macchina vuoi guidare. Se non hai fatto la patente, se vuoi fare la patente. Se vuoi visitare un certo paese, se vuoi visitare quel paese, aggiungi la lista. Quindi tutte queste cose devono essere tutte quante messe, ma è ovvio che devono anche essere realistiche. Cioè non dirmi ora che tu vuoi 5 Lamborghini e vuoi vivere sulla luna e vuoi avere 5 ville. E ricorda anche che più è alto il tuo obiettivo, più è ambizioso il tuo obiettivo, più deve esserci lavoro per raggiungere quel livello di obiettivo lì. Quindi non puoi dirmi adesso, e io voglio fare questa cosa qua. Congratulazioni per la tua fantastica ambizione, sono contento per te, però se poi è così alta e tu non sei disposto a metterci quel lavoro, sei fottuto. Non lo farei mai e sarai molto deluso. Dopo un mese di lavoro ti accorge che non c'è il progresso che doveva esserci e ti arrendi. Il problema di tante persone che non raggiungono i propri obiettivi è proprio questo, che impostano obiettivi altissimi e la loro voglia è bassissima. Una persona pigra cosa fa? Sogna e sogna e guarda le future, io sarò questo. Ma questi non sono obiettivi, questi sono desideri. Lo step numero 1 è impostare dei tuoi obiettivi. Come si impostano obiettivi? Voglio che tu divida il tuo prossimo anno in 12 grandi temi, in 12 grandi capitoli. Sono consigli questi che davo anche nella scorsa versione di questo piano per il successo. Ma è importantissimo. A me piace dividere il mio anno in mesi e ogni singolo mese è un capitolo e gli do pure un nome. Quindi magari se tu stai facendo copywriting, perché tantissimi di voi so che stanno facendo questo, magari puoi usare gennaio per lo studio. Quindi gennaio due punti mese di studio, no? Ti dà motivazione, ti crei tipo una tua storia personale, un tuo progresso. E la motivazione proprio sembra di essere tipo il protagonista di qualcosa, il che è fantastico. Quindi gennaio mese dello studio. Può esserci febbraio, mese del miglioramento. Marzo, mese della ricerca dei clienti. Quindi tu ti crei questi mesi e ogni singolo mese ha un obiettivo specifico. Magari il primo mese l'obiettivo è fare copy. Il secondo mese l'obiettivo è trasformare il copy in qualcosa di pratico, farti il sito, farti queste cose. Il terzo mese il tuo obiettivo è trovare già il primo cliente. Il quarto mese vuoi già fare 5.000 euro quel mese, che è molto fattibile. È molto, molto realistico in quattro mesi fare questi risultati. Certo che sì, ma l'unico modo per farlo è se c'è costanza. Se non c'è costanza e non sei disposto a starti dietro se stesso, allora no, sei un po' fottuto. Tra l'altro comunque sto parlando spesso di copywriting in questo video. Se ti interessa avviare la carriera a copywriting lì prossimo anno, sto facendo la più grande promozione mai vista per il mio corso. E per andare a vedere un po' di informazioni puoi semplicemente cliccare il link in descrizione, ti porterà lì, è molto carino. Comunque, i tuoi obiettivi hanno sempre 4 requisiti. E ancora una cosa importante che voglio spiegarti, perché voglio che ti entri in testa e se non te entra te la martello io a forza. Quindi, i quattro requisiti degli obiettivi, cioè come deve essere fatto un tuo obiettivo per essere un obiettivo e non un desiderio da comunista. Primo requisito, deve essere misurabile. Non dirmi voglio fare viaggi, dimmi voglio fare cinque viaggi quest'anno. Non dirmi voglio andare a una città fredda, dimmi voglio andare in cima a Norvegia, in questa città precisa, Lobroski. Non so se esiste veramente Lobroski, vabbè, Lobroski, adesso c'è. Qualcuno le aggiunga a sua mappa per favore. Non dirmi voglio fare soldi, dimmi voglio fare 5.000 euro al mese entro mar. Altrimenti non sai neanche se hai raggiunto oppure no l'obiettivo. Come fai se per essere raggiunto no un obiettivo se non c'è un numero collegato? Non puoi. Secondo requisito, devono essere realistici. Se tu mi vuoi fare 100 milioni all'anno il prossimo anno, non lo farai, coglione. Torna con i piedi per terra. Quindi io sono uno che voglio che tu sia ambizioso. Io voglio che tu punti in alto. Voglio vederti cazzo vincere. Ma allo stesso tempo non voglio che tu sia deluso, non voglio che tu fallisca, ok? Quindi devi tenerti qualcosa che sì, ti mette la prova e devi lavorarci, devi spingere fortemente. E c'è un po' di rischio di mezzo, ma non irraggiungibile. Eh bro, ho visto questo annuncio bro, il prossimo mese io bro, inizio a fare sta cosa. Ma ne parla, ne fanno ciapi, ciapi, yapida. Parla meno, lavora di più, ok? Terzo requisito, devono essere descritti nel dettaglio. Comunque qui tutti gli appunti, quindi sto seguendo una struttura molto precisa. Devono essere descritti nel dettaglio. In che senso? Che significa? Che significa che tu devi avere chiaro esattamente come è fatto questo obiettivo. Quindi se tu mi dici voglio abitare a Milano, dimmi com'è che vuoi che sia questo posto a Milano, vuoi che sia un penthouse? Perfetto, è raggiungibile. Cioè voglio dirti, quello che ti sto dicendo sono cose che puoi raggiungere veramente, lo so, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Io in tipo qualche mese, da quando mi sono trasferito a Bologna, ho completamente ribaltato le mie esistenze, in pochissimi mesi, quindi lo puoi fare anche te. Se tu vuoi un penthouse a Milano il prossimo anno, ok, fantastico. E poi cos'altro vorresti? Mi sogliere la giacca perché mi sto scaldando. Voglio sapere tutto, perché se sai tutto, quello è tipo, dice al tuo subconscio, cazzo lo sto raggiungendo, cioè è come comunicare al tuo subconscio che non stai desiderando, non è che vorresti fare quella cosa. Stavolta stai veramente pianificando, per la prima volta non solo stai facendo desiderio, non solo stai dicendo vorrei avere X il prossimo, stai dicendo ecco esattamente cosa voglio, lo dipingo più chiaro che riesco a dipiggerlo nella mia immaginazione e poi lo fai diventare realtà. So che sembra motivazionale, ma non è motivazionale, se ti sto motivando smettila, smettila di essere motivato, stop it, stop, voglio che tu ti motivi da solo, ecco cosa voglio. Voglio che tu ti metti lì e pensi al tuo, ma voglio che lo fai, cioè se lo fai veramente sei un coglione comunque, hai sprecato tipo, devi metterti lì e succarti tipo, voglio questo obiettivo qua, voglio scrivere copy alle 9 alle 12 di ogni mattina, poi vado in palestra dopo pranzo e poi esco con i ragazzi e c'è questo locale che voglio vedere. Ultimo requisito degli obiettivi, devono avere una scadenza, devono avere un momento preciso storico in cui scadono, quindi devo avere tutto ciò entro fine mese, devo vivere in questa casa entro fine mese di questo mese, ma deve essere stabilito in questo modo. Step numero 2, quindi il primo step era impostare gli obiettivi, un obiettivo al mese per tutto il prossimo anno, non è difficile, molto chiaro, ogni mese c'è un suo tema con i 4 requisiti per gli obiettivi che ti ho appena spiegato. Step numero 2, decidi cos'è che ti serve fare, cioè proprio cos'è che devi fare per raggiungere quegli obiettivi. Ad esempio, se tu vuoi diventare un copywriter è probabile che ti serve una community, non un po' di persone con le quali tu puoi sempre dire ok, queste persone ci hanno le mie spalle, io guardo le loro spalle, possiamo organizzarci per vincere insieme, per scambiare informazioni, per scambiarci clienti eccetera, ok fantastico. Ma magari ti serve e decidi se sei disposto a dare quello che serve per raggiungere il successo. Numero 3, agisci. Non è così lunga, hai visto? Non è così importante, però qualche ora la devi stare lì, cioè per seguire questo video, cioè per fare queste cose che ti ho detto, qualche ora ce la metti, no? Ti metti lì col tuo quadernino e disegni le cose e poi dici ok il prossimo anno così, cioè ci vuole qualche oretta per stare lì di fronte al quaderno e ti dico, la maggior parte delle persone stanno talmente tanto insolenti nella propria comfort zone, sono talmente lì intrappolati che non faranno neanche questo. E' difficile vedere un giovane che lo fa, perché ormai hanno perso già speranza. Non sono manco partiti ma già loro si sono arresi. Che tristezza. So com'è essere nel punto in cui i soldi sono uno stress e so com'è essere nel punto, dove sono adesso, in cui i soldi sono l'ultima tua preoccupazione. Ti preoccupi di altro, un ricco può scegliere i propri problemi ed è la cosa più bella che tu possa avere come scelta. Quindi l'ultimo consiglio è l'azione, l'ultimo step. Ora voglio darti alcuni consigli, che alcuni sono simili all'anno scorso, alcuni sono un po' diversi. Per far sì che tutto quello che ti ho detto oggi sia più completo, continuo a guardare, potrebbe esserti molto utile. Ma prima di partire con questi consigli, piccolo segmento, voglio annunciarti cosa molto importante, che mancano circa 8-7-8 giorni per comprare Cooperative Mentorship a prezzo basso. Questo anno abbiamo fatto la quinta versione del nostro corso, abbiamo aggiunto letteralmente tutto quello che ti possa servire e non servire per iniziare la tua carriera. Prima erano tre, ora sono quattro metodi per trovare clienti. Imparerai propaganda politica, le basi del copywriting, strategie di vendita, strategie di manipolazione, storia del copywriting e storia di come vendere per davvero. Saprai veramente tutto quello che ti serve per fare carriera, sia dalla parte copy ma anche dalla parte business, ovvero proprio come trovare clienti e farci soldi. Sono incluse le consulenze, che le faremo solamente per le persone che entrano entro fine anno. Sono incluse tutto ciò che potrebbe servirti, quindi link in descrizione se ti interessa questa cosa. Andiamo adesso con i consigli. Numero uno, non ti scaricare app di merda, non lo fare, bad boy. Ti lancio qualcosa, perché sono così? Perché è così tentante, no? Scaricare delle stupide app e quando lavori al posto di fare quello che dovresti veramente fare, di fare il compito, quello difficile del tipo scrivere quel copy, fumare quel cliente, fumare quella persona, farsi il piano, al posto di fare quello, quelle cose più semplici, che sembra che sono lavoro, così poi tu stai bene con te stesso e c'hai dopamina, sembra che sei un lavoro ma non sono veramente lavoro, sono tipo cazzato, sono a perdere di tempo. E queste cose sono tipo scaricare le app, guardare YouTube, come stai facendo adesso, dopo questo smetti. Ci servono due applicazioni, un calendario e un'applicazione per tenere straccia dei tuoi task, dei tuoi compiti, le cose che devi fare. Quindi un Google Calendar o iCloud Calendar, quello che ti pare, e ClickUp o Notion o Google Tasks, quello che ti pare, per avere un posto dove dire, ok, fai questo, questo, check, 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 check di task. Numero due, trova la tua gente e fai accountability partner con loro. Accountability partner è una persona con la quale tu ti responsabilizzi. Non voglio che tu ti responsabilizzi pubblicamente, ok? Lascia stare gli altri perché gli altri non capiscono un cazzo, i tuoi obiettivi devono essere privati. Voglio che sia con un tuo partner di responsabilità. Quindi un tuo amico, una persona che tu conosci, quella quale cresci insieme, se non ce l'hai, la trovi in cooperative mentorship sul gruppo e se non ce l'hai sul gruppo, esplora, qualche parte la trovi, quella quale dici, bro, dentro la prossima settimana vediamo chi fa 2000 euro e chi ne fa di più, offre la cena a quell'altra. Bro, andiamo in questa, in questo, cioè, vorrei raccontarti questo esempio che mi veniva proprio adesso in mente, che stavo per dirlo come esempio, per una cosa che un ragazzo, due ragazzi ne ho fatto veramente. Loro stavano già facendo soldi col copio, facevano tipo 5k insieme al mese, si erano messi in collaborazione e sono andati in montagna per un mese intero in un Airbnb, sono chiusi lì, in quel posto e non hanno fatto altro che scrivere copi su copi su copi su copi e hanno fatto un progresso incredibile insieme. Cioè l'unione fa la forza veramente, la competizione, la concorrenza che c'è tra un uomo e un altro è la cosa più forte che ci sia, sei molto motivato. Prossimo consiglio, impara a sbatterti nel cazzo di quello che pensano gli altri di te. Gli altri ti pensano per tipo 5 secondi. Vedi la persona per strada e cade in terra e fa una pessima figura. Per quanto tempo ci pensi? Tipo 5 secondi, ah ah guarda che coglione, ah 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 e poi va via e te ne sei dimenticato. Mentre lui magari ci pensa per anni, per anni a venire lui pensa a quella figuraccia di merda che ha fatto quella volta quando era per strada. Immagina vivere così tanto per gli altri. Tieni i tuoi obiettivi privati, non segreti, non è che devi nasconderli, però privati. I tuoi obiettivi sono tuoi. Altro consiglio, sii serio sui tuoi obiettivi. Se ne parli con qualcuno a tavola e loro ridono, non fare tipo ah 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 ah, tipo per prenderti un po' in giro da solo, no no. Se il tuo obiettivo è fare il copywriter il prossimo anno, io lo con la faccia è tosta. Io ricordo quando era inizio, dicevo, ah no voglio fare il copywriter, infatti guarda sto facendo queste richieste, faccio vedere sul telefono, guarda sto facendo queste richieste su questo sito e mi hanno queste email e ho visto questa cosa e loro mi guardavano ah 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 ma dai ma vuoi fare questa cosa, ma dai non fa il coglione andrei. E io li guardavo tipo, ma perché sta ridendo? No ti ho detto che voglio veramente fare, guarda sto facendo veramente le cose, perché sta ridendo di me? E loro, ma no bro ma dai non fare così in serio, ma stavo scherzando. Io dico, no non scherzare con me su questa cosa, questo è il mio obiettivo, questa è la cosa su cui passo tutto quanto il mio tempo, voglio vedere come ti comporterai con me tra due anni quando ce l'avrò fatta. Quelle persone che mi prendevo in giro, ultimo consiglio e poi chiudo, se non c'entro il bersaglio ricarica la cappa e comincia a prendere il grilletto di nuovo. Non pensare che siccome hai sbagliato una volta sbaglierai anche in futuro. Bisogna fare vari tentativi e devi fallire per far sì che il futuro sia più bello di adesso. Devi fallire per fare progresso, il fallimento fa parte del successo, ok? Il fallimento è uno step, è un requisito che fa parte proprio del processo per fare successo, quindi non avere paura di fallire. Questo è quanto, ragazzi miei, in descrizione voglio che voi andiate a vedere i copywriting mentorship, informatevi, forse non ti interessa, forse non è una cosa che fa per te, no problem, però le informazioni non ti fa male prendertele, quindi vadaci un'occhiata perché non voglio che tu tra un mese te ne penta di non essere entrato, succede sempre così, qualcuno mi scrive, eh mi pento lì e vada, quindi dacci un'occhiata, non fa male. E lavora su quello che ti ho detto oggi, il 2024 sarà il tuo anno, se agisci come ti ho detto oggi, molto probabilmente. Questo è quanto, iscriviti se non l'hai fatto, cioè ragazzi è il futuro è nostro.